Una mostra a pannelli anche multimediale, tuttavia preziosa perché parla della memoria che troppo spesso oggi viene dimenticata e parla di beni che sono la storia dell'umanità. Come nasce? La mostra nasce in un modo pratico nel contesto dei musei della Lombardia con l'intento di valorizzare un museo nazionale importante, il Museo Nazionale Archeologico di Mantua che è stato trasferito nel 2015 al Polo Museale ma che era vuoto da quando era stato costruito, quindi da dieci anni, e che bisognava valorizzare e mettere al centro dell'attenzione del pubblico per poter ottenere finanziamenti per poterlo poi finalmente riaprire. Bisognava quindi trovare un argomento molto forte per il quale si voleva richiamare la sensibilità delle persone ma che non costasse molto e quindi abbiamo individuato all'inizio un breve percorso che poi si è arricchito sempre di più perché abbiamo ottenuto il consenso di tutte le istituzioni ovunque. Quindi una mostra che è sì preziosa perché ha delle immagini tra l'altro straordinarie perché è in italiano e in inglese ma è anche popolare e vuole essere assolutamente popolare. E il fatto che sia qui a Santo Storgio un luogo dei Domenicani, un luogo di quell'ordine che predicava sulle piazze rivolto ai laici e che doveva richiamare l'attenzione di un pubblico, di ascoltatori non religiosi. Ecco, già questo binomio di un argomento che deve essere popolare in un luogo di origine domenicana insomma funziona. Qui siamo davanti all'immagine che può essere il simbolo di tutto ciò che di orribile c'è stato con l'ISIS e con il desiderio di distruggere la storia. Khaled al-Assad è stato trucidato nell'agosto 2015 per difendere Palmira di cui era stato cultore, direttore anche del museo. Ecco, tenere viva la memoria anche attraverso fatti di questo tipo è importante. Lo dico specie per i giovani. Sì, tra l'altro la mostra era stata pensata prima di questo orribile assassino e quando c'è stato abbiamo capito che lui sarebbe stato sicuramente il personaggio che poteva stimolarci a essere sempre più profondi, precisi nel nostro messaggio e catalizzare ovviamente l'attenzione del pubblico. In realtà il suo è stato veramente un gesto che mi permetterei di chiamare magari esagerando o ampliando diciamo l'idea quasi un martire dei beni culturali ma non è stato l'unico e teniamo a sottolineare che lui è stato sicuramente una figura importante, drammatica, commovente ma molti altri e vorrei dire sono le persone, sono le persone sotto i bombardamenti, sono le civiltà che vengono distrutte in quanto storia di persone. Dalla prima guerra mondiale alla seconda, anche immagini di Sant'Eustorgio dove ora ci troviamo, un luogo meraviglioso, la Cappella Portinari con le distruzioni sia della prima che della seconda guerra mondiale e poi il grande bombardamento del ferragosto 43, il Duomo, la Galleria, la Scala, Monstar, i georgofili nel 1993, una storia che si dipana di dolore però c'è anche qualche immagine di ricostruzione, come mettere insieme queste cose? La mostra infatti non si intitola distruggere la memoria ma salvare la memoria cioè vuole essere in fondo positiva, vuole richiamare l'attenzione su come si può comunque intervenire anche perché gli esempi che noi abbiamo della nostra storia recente ci fanno capire che è stato possibile. Una buona parte della mostra è dedicata alla prima e alla seconda guerra mondiale soprattutto qui in Lombardia, a Milano, mostrando come molti palazzi, sedi storiche in cui noi adesso ci muoviamo, viviamo, eseguiamo mostre, vediamo opere teatrali in realtà erano state completamente distrutte e la cosa straordinaria è che dopo la fine della prima guerra mondiale già nel 50 Milano riusciva a essere quasi completamente ricostruita erano stati addirittura distrutti 4 o 5 musei ogni museo ha richiesto super finanziamenti e sono stati trovati e nel 50 tutto è stato di nuovo riportato in luce, inaugurato e la vita è ricominciata completamente 4 o 5 anni per ricostruire una città sono pochissimi in un'Italia che era poverissima e che ha riconosciuto nel patrimonio culturale il veicolo per puntare al futuro perché in quello si riconosceva la propria identità ecco questa mostra vuole da un lato far capire che è possibile ricostruire dall'altro che ha un senso puntare sul patrimonio artistico perché lì si concentrano la storia di ogni identità, di ogni popolo e di ogni tradizione grazie a tutti